Quattro nuovi direttori per quattro dipartimenti dell'Università dell'Aquila li hanno presentati alla città il Rettore Edoard Alesse e il Direttore Generale Pietro Di Benedetto. Si tratta della Professoressa Anna Maria Cimini, nuova direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, del Professor Vincenzo Stornelli che andrà a dirigere il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione Economia, del Professor Marcello Di Risio che guiderà il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ile Architetture e Ambientale e del Professor Fabio Graziosi, nuovo direttore del Dipartimento di Ingegneria, Scienze dell'Informazione e Matematica. I quattro neo eletti andranno ad affiancare Luca Lozzi, confermato direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, Marco Segala, che a fine 2022 era stato eletto direttore del Dipartimento di Scienze Umane, e Francesca Zazzeroni, direttrice del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie. Hanno il compito di dirigere e gestire i dipartimenti, le strutture organizzative che governano le attività didattiche di ricerca dell'Università. È importante perché sono giovani professionisti di elevato profilo qualitativo, impegnati nelle relazioni con i territori, nell'attività di ricerca e soprattutto nella didattica. Quindi rappresentano delle punte di diamante di quest'Ateneo, che sono state scelte dai loro pari, quindi in maniera democratica e sulla base delle loro qualità, diciamo, riconosciute da tutti i colleghi. Questo mi riempie di gioia e sono sicuro che questo nuovo assetto, che condurrà, diciamo, verso la fine del mio mandato, sarà di elevatissimo profilo e contribuirà a far crescere ancora di più e a rendere più attrattivo l'Ateneo dell'Aquina.